buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è lunedì 17 aprile 2023 verrebbe voglia di dire ricominciamo iniziamo una nuova settimana all'insegna della lettura dei giornali per vedere che cosa è successo nell'ultimo weekend ma prima di tutto vediamo qual è l'almanacco del giorno che cosa ci dice ci dice che oggi è san san roberto di la chesdie ebbene la chesdie ecco qui la grafica la sedia di dio nacque in un bosco roberto dopo che la madre fu colta improvvisamente dalle doglie del parco e quasi una predestinazione divenne remita visse nell'undicesimo secolo e dopo aver vissuto anche da solo fondò una abbazia che divenne molto molto famosa in francia uno dei più importanti focolai monastici di quella nazione presso chermont ferrand e a questo punto la santità di san roberto dilagò per tutto il paese e fu oggetto di devozione e di culto quindi san roberto de la chesdie dieu ed ora vediamo anche le previsioni del tempo il tempo cambia poco rispetto la settimana scorsa sulla nostra provincia ma anche su tutto il resto della regione vediamo che le condizioni meteo sono ancora instabili con precipitazioni sparse sui settori centro meridionali soprattutto ma sono ancora più intense nel settore dei sibillini i venti sulle coste spirano da nord così come nell'interno le temperature sono ancora in calo le minime sono 8 gradi le massime 16 gradi ancora tardiamo avere veramente un clima primaverile questo è un po il quadro della situazione meteorologica e quindi ora diamo subito un'occhiata alle notizie dei giornali apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che l'apertura è dedicata ad un quadro che l'assessore lavori pubblici e barbara brunori ha fatto degli interventi in atto dissesto idrogeologico e restyling adesso ripartono i cantieri della città finiscono le feste pasquali e ripartono i cantieri sono veramente tanti i cantieri che sono in attivo nella città di fano per guadagnare tempo rispetto alla buona stagione in modo che per l'estate l'immagine della città sia ancora più qualificata e sono veramente tanti gli interventi che si stanno facendo allora si parte con il secondo intervento su rio crinaccio frutto di uno studio idraulico fatto dopo l'alluvione del 2014 per assicurare soprattutto in questo caso la sicurezza delle persone e far sì che non si ripeta più quella esondazione che tanti danni ha procurato a tempo debito e poi si parla anche della rimozione della frana di Carignano degli interventi in atto del sottopasso di Vallato che costituisce l'accesso principale a questo quartiere verrà riqualificato verranno ripristinati ancora di più i sistemi di sicurezza e verrà dato anche un lustro al look all'immagine del sottopasso il parco urbano dell'aeroporto stanno per essere ripresi i lavori della pavimentazione e delle sedute dopo una pausa relativa a degli accertamenti che vengono fatti in zona e poi in questa settimana è previsto anche un incontro con gli operatori del Lido per metterli al corrente di tutto il sistema di provvedimenti che saranno assunti in relazione all'ampliamento del sottopasso ferroviario di Viale Cairoli ma non è finita qui c'è ancora la ristrutturazione che sta per partire quella di piazza Marcolini e poi il secondo intervento nel foro boario foro boario è già stata pavimentata una metà della superficie fatta anche la segnaletica orizzontale ed ora la ditta una ditta seria questa contrariamente a quanto venuto in altri parcheggi della città una ditta seria che sta rispettando tempi e moduli di intervento e quindi sta intervenendo nella seconda parte del parcheggio del foro boario non manca ancora la riqualificazione di Viale Battisti che andrà a gara in questa settimana e poi le asfaltature che sono partite a pieno regime ha detto Barbara Brunori si interviene si interviene soprattutto nella zona industriale di Bellocchi si interviene a Sant'Orso alla Paleotta e in altre zone anche periferiche della città questo è un quadro per quanto riguarda gli interventi in atto un grande fervore in vista dell'estate ma per quanto riguarda la promozione dobbiamo dire dobbiamo anzi rilevare due aspetti uno è l'aspetto religioso quell'altro è l'aspetto promozionale e parliamo della messa che ieri in Duomo il vescovo Armando Trasarti ha celebrato sotto le telecamere della RAI un momento importante momento importante che ha visto il Duomo riempirsi di fedeli e soprattutto le telecamere hanno ripreso sia all'inizio ma anche poi durante la messa i nostri beni culturali un bello spot per la città di Fano si è iniziato con una superba immagine della fontana della fortuna con la piazza retrostante poi le telecamere hanno indugiato sull'arco d'augusto sulla rocca malatestiana sulla corte malatestiana sui vari aspetti più belli della città di Fano al pincio ovviamente per poi cogliere la loro attenzione sulla cattedrale una bella costruzione romanica del 1100 e poi l'interno di essa l'interno di essa con il bellissimo quadro dell'assunzione del Ceccarini la Cappella Nolfi il pulpito e poi l'immagine dei fedeli e soprattutto hanno colto l'attenzione il sorriso dei bambini oppure il volto attento degli anziani degli anziani un volto rugoso ma compenetrato nella celebrazione del rito rito ho detto che è stato celebrato dal vescovo Trasarte insieme al parroco Giorgio Giovanelli il parroco del Duomo questo è l'articolo che riguarda a fondo pagina questo argomento sul corriere adriatico invece l'apertura della seconda pagina è dedicata ad un incontro che si è svolto a Colli al Metauro a Calcinelli buona la proposta dei laghetti ma i costi e i tempi sono ignoti l'assessore regionale Aguzzi è intervenuto a questo incontro e ha parlato del progetto decidono i sindaci nel lato vediamo qui una fotografia degli intervenuti dei relatori soprattutto Cristian Bellucci Federico Baldetti l'ingegner Federico Baldetti e Claudio Cerrioni ebbene sono 13 anni hanno detto questi ultimi che stiamo studiando il sistema dei laghi un sistema che nessuno ha mai preso seriamente in considerazione e nessuno ha preso la briga di ascoltarci hanno rimproverato bisogna invertire la rotta se vogliamo salvare il fiume e avere acqua a disposizione siamo ancora in tempo ma non ne possiamo perdere ancora bisogna bloccare tutti i pozzi privati che succhiano acqua dalle falde e soprattutto anche dal fiume una nuova gestione in agricoltura dei pesticidi e optare per una concimazione che consenta ai terreni di trattenere l'acqua non ci sono alternative questo è l'unico sistema secondo i tecnici per preservare l'acqua potabile nel nostro territorio e il fiume Metauro ha una grande disponibilità una grande portata d'acqua che però bisogna utilizzare intelligentemente così hanno detto i tecnici e vediamo anche un'iniziativa che si svolge oggi pomeriggio a Fano alle ore 16 nella sala del gonfalone si presenterà il piano socio sanitario sarà presente anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli oltre all'assessore alla salute Filippo Saltamartini presenteranno insieme la pianificazione 2023-2025 in corso di elaborazione ai soggetti del distretto sanitario di Fano incontro è programmato alle ore 16 gonfalone si trova in via Rinalducci all'iniziativa l'assessore Saltamartini ha invitato tutti i sindaci dei comuni del territorio il direttore del distretto, la coordinatrice dell'ambito territoriale e sociale i rappresentanti sindacali del personale della sanità insomma tutti coloro che sono interessati a questo nuovo piano che dovrebbe così supplire a certe carenze in modo particolare i tempi di attesa che ancora oggi sono lunghissimi i giornali ne riportano costantemente la problematicità in modo che si riesca a porre almeno un tampone a questa falla che ormai dilaga da tanto tanto tempo ed ora parliamo di un'iniziativa curiosa è oggetto di un articolo di spalla del Corriere Adriatico di oggi ebbene si tratta di un club importante a Fano un club che annovera oltre 100 soci e sono tutti innamorati della Vespa è il club dei Vespisti fanesi un club animato appunto dalla passione dei motori ma è un club che non si limita così a fare dei raduni oppure fare dei viaggi è un club che opera sistematicamente nel approntare dei servizi sociali alla città fa tanta beneficenza si presta così a presiedere a tante manifestazioni ad organizzare appunto con la presenza dei loro soci sistema di sicurezza, sistema di informazione e soprattutto ha un collegamento molto molto diretto con i bambini infatti i soci del club sono Babbi Natale sono Beffane, sono uomini che offrono così giocattoli ai bambini dell'ospedale ai vecchi delle case di riposo alla festa della gruppa dove ci sono tanti tanti bambini quindi sono giovani e adulti che associano la loro passione per i motori in modo particolare per la Vespa perché per loro la Vespa è il simbolo della loro passione della loro ribeltà del loro desiderio di vacanze ai servizi sociali e quindi questo è molto bello e questo club ieri ha organizzato la festa della Tagliatella si sono cimentati con farina, uova insomma e quant'altro la loro sapienza gastronomica e pensate un po' chi ha vinto ha vinto una persona insospettabile l'assessore al turismo Etienne Lucarelli che qui vediamo al centro di questa fotografia con tutti gli altri concorrenti che hanno partecipato al concorso parliamo di altro parliamo di altro e siamo a terre roveresche rispunta il biodigestore rispunta perché il TAR ha dato ragione ai comuni al comune di Fano insomma non ha dato ragione ai ricorrenti soprattutto a coloro che devono ospitare questo impianto che viene visto come il fumo negli occhi biodigestore Fano Partner si sblocca ora il procedimento entro maggio dovrà essere assunta la decisione politica ma Ferronia la ditta che si appresta a realizzare l'impianto procederebbe anche da sola anche se non ha l'autorizzazione o lo può fare perché questo dispone la legge anche se non ha il placet del comune ebbene ora c'è lo sblocco del procedimento avviato dal comune di Fano per cercare un partner industriale dell'azienda dei servizi ASET per la costruzione e la gestione di un impianto che tratti rifiuti organici per la produzione di metano questo lo ricordiamo ebbene non sarà molto facile far sì che questa delibera passi in Consiglio Comunale comunque se si riesce a mantenere stretta la maggioranza è solidale questo ormai è un procedimento che dovrebbe andare fino alla realizzazione ma staremo a vedere ed ora parliamo di due appuntamenti per il ciclo di incontri essere genitori all'era 4.0 organizzato dall'Istituto Comprensivo Gio Pomodoro di Mondavio presso la scuola di musica a San Michele al Fiume sarà ospite Gian Pietro Ghidini che autore del libro Lasciami Volare è presidente dell'associazione Pesciolino Rosso ebbene Ghidini racconterà la propria storia e quello di suo figlio Emanuele una storia tragica purtroppo il ragazzo è morto a 16 anni nel novembre del 2013 per l'uso della droga l'altro appuntamento si tratta di un'iniziativa più che sportiva è un'iniziativa del plein air così la possiamo definire la vediamo qui in questo articolo di Spalla Sue Giù per le Valli definito il percorso Siamo a San Costanzo un'iniziativa per il 25 aprile prossimo della Proloco tutto pronto per l'edizione numero 29 della camminata Sue Giù per le Valli evento organizzato a San Costanzo è stato definito il programma della passeggiata storica naturalistica rivolta a tutti adulti e bambini è una passeggiata che tutti possono fare e immergersi sperando nel bel tempo in questo meraviglioso paesaggio ed ora parliamo anche di sport oggi è lunedì vediamo che cosa è accaduto nel weekend ebbene per la visse ormai si tratta di un problema salvezza visse ora si appresta la battaglia finale questo è il titolo che appare sulle Corriere Adriatico Biancorossi ormai sono ai play out ma per farli in una posizione migliore con la Carrarese serve almeno un punto nella postseason la squadra dei mister banchieri dovrà sfidare una tralea limolese e il San Donato domenica ci sarà l'ultima di campionato con i toscani che non regaleranno proprio niente niente ebbene che cosa dice l'allenatore ebbene ormai si gioca tutto e quindi bisogna stringere i denti e lottare fino in fondo a Fano invece serpeggia la voglia di vincere ed è la voglia dei play le play off la visse sul play out il Fano sul play off insomma c'è un po' di differenza i Granata in vantaggio con Zanni subiscono il pari di Monza ma poi però dilagano con altri due gol con Severini e Nappo il risultato è Fano 3 Montegiorgio 1 il Montegiorgio resta al terzultimo posto adesso rischia seriamente la retrocessione diretta Mosconi è incontenibile le voglio vincere tutte ormai mancano pochissime gare 3 per la fine del campionato e Fano vorrebbe avere 9 punti magari gli riuscisse a racimolare 3 per ogni partita per raggiungere i play off e questo è il titolo Tommassino può essere un valore aggiunto Carra può diventare un giocatore importante ha detto Mosconi vediamo le altre gare Osimana e Fossombrone restano con l'urlo in gola un big match senza reti il risultato è 0-0 con l'Osimana e Fossombrone ma c'è ancora una fiammella per la D bianco-azzurra e i play off giallorossi invece tra Montefano e Urbino c'è un pari un pari di speranza 0-0 anzi 2-2 è il risultato 0-0 è quello dell'Osimana 4 gol e un punto a testa entrambe le squadre in corsa per un posto agli spareggi Atletico Gallo play off certi il Marina cade e retrocede l'Atletico Gallo 2 Marina 1 la squadra di Mariotti non solo centra l'obiettivo ma resta persino in corsa per la D quindi un bel risultato per il Gallo vediamo anche il basket VL finale da incubo e Scafati ne approfitta purtroppo una debacle così senza storie per il Carpegna Prosciutto quarta sconfitta consecutiva il risultato non ne lascia storie Pesaro 79 Scafati 86 la Carpegna Prosciutto esce tra i fischi del pubblico siamo andati in tilt e la dichiarazione di repesa vediamo ora il volley giriamo pagina e vediamo che purtroppo la vigila ha perso lo scontro con l'Ortona una partita che si è combattuta fino allo spasimo ha acceso l'entusiasmo dei tifosi la vigila più volte è andata in vantaggio però alla fine l'Ortona è riuscita a riagguantare il risultato e il testa-testa del tie-break ha dato ragione agli abruzzesi la vigilar si spegne presto Fano cede il primo set va avanti 2-1 e ha in pugno il quarto parziale pensate poteva vincere così con un soffio ma Ortona pareggia e al tie-break gli abruzzesi riescono a vincere vanno in vantaggio nei play-off promozione ora sarà difficile ma non impossibile per i fanesi riuscire a riagguantare il risultato a D'Ortona ed ora vediamo anche un articolo per il moto mondiale qua a fondo pagina il circuito di Austin premia Marini è il secondo al traguardo dopo Renze è il miglior piazzamento della carriera dopo aver accarezzato il successo questo per quanto riguarda il corriere adriatico vediamo anche una notizia che riguarda Pesaro si tratta di una grande antenna che dovrà assicurare una riproduzione molto molto così funzionale appunto delle onde elettromagnetiche si tratta di una maxi antenna che garantirà il segnale sia in terra che in mare sarà installata sul colle San Bartolo nei pressi di Fiorenzuola aperto sul colle San Bartolo il cantiere per l'installazione Mariani coperto all'80% delle utenze pensate la portata di questa struttura un'antenna Iliad 5G collocata in via Tasino nei pressi del cimitero di Fiorenzuola in un terreno di proprietà pubblica la concessione prevede 9 anni di esercizio l'antenna è alta 30 metri con 3 metri di pennone reggerà 6 antenne 3 parabole e 7 ripetitori e poi voglio darvi notizia anche di una struttura molto molto importante anzi di un'infrastruttura molto importante quella della rotatoria della Siligata in un punto dove accadono molti dove sono accaduti molti molti incidenti ora questa rotatoria finalmente giunge al momento della sua realizzazione costa 900 mila euro e attesa da anni dovrebbe garantire maggiore sicurezza comunque ci saranno certamente dei disagi fino al 31 maggio ma è un'opera strettamente necessaria ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino guardando un po' la sintesi della prima pagina dato che oggi il giornale esce in una redizione tipica del lunedì un po' più ridotta rispetto a quella dei giorni normali della settimana ebbene vediamo subito le notizie di Pesaro spunta un'altra bomba d'aereo nel cantiere dell'A14 fatta saltare nella cava si tratta di un ordigno di 500 libri risaliva la seconda guerra mondiale gli artificieri hanno innescato l'esplosione a distanza poi vedremo anche nell'interno la foto del momento culminante di questa esplosione altri due argomenti per quanto riguarda la provincia di Pesaro ladri scatenati furti a raffica spariti soldi e gioielli cinque furti si vengono segnalati nel nostro territorio negli ultimi giorni e poi a Santa Veneranda parte il benedetto casellino che dovrebbe così collegare Fano a una entrata unidirezionale in maniera così diciamo più organica più confacente rispetto a quando Fano riuscirà a realizzare il casellino di Fenile abbiamo appunto questi due articoli a Dancona vediamo partita di pallanmoto una partita che finisce in scazzottata e si è verificata nella piscina del passetto giocavano l'osima e il rapallo una partita ad alta tensione un giocatore è stato aggredito e scintille tra i tifosi è arrivata addirittura la polizia e poi sempre a Dancona la famiglia di bambini cardiopatici liste d'attesa troppo lunghe ancora appunto le liste d'attesa è una protesta a Iesi aborto a Dinolfi contestato una pagina vergognosa a Macerata il partito democratico boccia le nomine la sanità è nel caos e la regione non decide mentre a Corridonia la nuova segnaletica per tutelare i ciclisti attenti alle distanze anche qui una accortezza per riuscire a preservare la sicurezza qualche punto qualche spunto anche da Ascoli e Fermo a Fermo Sgarbi scopre le opere dei bambini c'è la fantasia dei grandi artisti anche nelle opere dei più piccoli un genio che poi dovrebbe sbocciare a San Benedetto è arrivato il maltempo sulla riviera allagamenti e feste rinviate purtroppo durante le festività il tempo è peggiorato e poi si parla di un Ascolano di 42 anni che non si rassegna la fine della relazione e minaccia di morte la sua ex purtroppo episodi che ricorrono piuttosto frequentemente apriamo il giornale e vediamo come in questo articolo si parli del casellino del casellino di Santa Veneranda tutta un'opera che realizza la società autostrade nelle opere compensative casellino ed intorni opere A14 spunta la rusma e si riaccendono le proteste soprattutto quelle degli ambientalisti e poi vediamo i furti di cui abbiamo parlato allarme furti raid in 5 case ladri fanno incetta di gioielli e contanti colpi sono stati effettuati a Montegranaro a Pantano nella Baratov e a case bruciate forse in azione la stessa banda tra le 21 e le 23 di sabato alcuni sono andati a segno altri no per esempio quello di Montegranaro i ladri sono riusciti a entrare in un'abitazione forzando la finestra ma all'interno non c'era niente di interessante il furto più consistente è stato invece messo a segno nel quartiere di Pantano e poi negli altri quartieri e questo era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci Massimo Foghetti Massimo Foghetti Massimo Foghetti Grazie a tutti.